L'ipotesi seconda dose di vaccinazioni fuori regione fa discutere, nonostante gli esperti siano abbastanza positivi in merito. Ma le persone che cosa ne penseranno? Saranno disposti a vaccinarsi nei luoghi di villeggiatura? Siamo andati a chiederglielo. Se è necessario, lo faccio sì. Viviamo su un mondo adesso che abbiamo solo bisogno di vaccini con quello che succede, con tutti i virus che ci sono. Certo, se sono fuori che è utile farlo per me e anche per gli altri, perché quello è utile per tutti. Anche se si tratta di un mix di vaccini? Fanno queste cose, sono scienziati, quindi dobbiamo anche avere fiducia di loro. Lei lo farebbe? Certo, certo sì. Non cambia niente, ha capito? Anzi, ringrazierei la regione che mi dà la possibilità di farlo. Se io arrivo in una regione dove sono in vacanza, devo fare la seconda dose, la prima l'ho fatta nella mia regione e mi hanno fatto, possiamo dire il nome, Pfizer, io pretenderei il Pfizer. Lo farei comunque se ci fosse la possibilità. Anche se si tratta di fare magari una dose diversa rispetto alla prima? Questo no. Certo, se la disponibilità c'è, si farebbe. Anche se si tratta magari di fare una dose che è diversa? No, diversa no. Penso se sia uguale sì, sicuramente.